ciao a tutti a tutti il mio socio andrea mi ha inviato un altro pacco un altro pacchettino adesso lo apriamo insieme a voi ci piace condividere con voi queste sorprese a te un bel onore Mimmo vai vai vediamo cosa c'è Iago sempre con noi forbici faccio da aprire è tutto nylon ecco qua si vai ecco qua bello cappello della Gallet con la scritta metallizzata questo è bello si questo lo volevo e Andrea me l'ha fatto di regalo bravo Andrea grazie Andrea bellissimo questo è veramente bello poi ecco qua una borsetta borsa si mineral a borsetta mineral a due almeno credo bellissime due due box bella bella poi queste sono veramente bellissime le due bollette veramente belle queste qua poi sono veramente bellissime adesso ce l'hai anche tu ma grazie Andrea grazie grazie mille Andrea bellissimo e adesso si va a spazzolare